Le trasformazioni tecnologiche che stiamo vivendo sono dirompenti, dobbiamo però riuscire e saper leggere culturalmente, ovviamente, questo è il compito dei filosofi e questo è il racconto che abbiamo fatto in questa giornata che ho fatto, diciamo che ho proposto. Dobbiamo saper leggere ad esempio il codice software, il codice software è oggi il motore generativo dei nostri spazi, non li distrugge, crea e disegna e decide la natura di quello spazio. Un negozio può essere un negozio o un magazzino a seconda che il codice funzioni o no all'interno di quegli spazi. Poi abbiamo parlato di intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale ci sta portando dentro la società dell'oracolo, finora siamo vissuti al tempo dell'archivio, pochi dati, pochi modelli, oggi entriamo nel mondo della predizione, il business del futuro sarà costruito grazie alla capacità dell'intelligenza artificiale di anticipare i comportamenti dei consumatori, dei pazienti e dei cittadini. Poi abbiamo discusso di blockchain sempre da un punto di vista culturale, è sicuramente un'innovazione tecnologica ma dobbiamo saperla leggere anche da un punto di vista culturale e una innovazione istituzionale. Non cambia solo il modo con cui produciamo le merci ma cambia soprattutto il modo con cui orchestriamo le interazioni socio-economiche umane e in futuro anche tra macchine e macchine. Da ultimo abbiamo toccato il tema del metaverso, un tema ovviamente molto caldo oggi, c'è molto hype e ovviamente molto rischio ma dobbiamo cominciare a leggere questo passaggio di civiltà nuovamente. Siamo passati da una internet fissa poi a un internet mobile, oggi entriamo dentro un'internet immersiva, non più fatta di siti, non più fatta di app soltanto ma anche di ambienti virtuali tridimensionali che saranno abitati da nostri avatar, da nostri doppioni. Cosa faremo con il avatar? Potremo educarci, potremo acquistare, potremmo fare cura ad esempio anche medicale e quindi utilizzarla in molti modi. Dobbiamo imparare come retailer a gestire, a creare e disegnare nuove esperienze dentro questi ambienti virtuali. Il Retail Executive Summit è un momento straordinario direi e unico di confronto e di dialogo tra gli attori coinvolti, tra i protagonisti coinvolti nella grande distribuzione e in generale nel mondo del retail. Abbiamo affrontato temi diversi, d'angolature diverse, abbiamo parlato di mercati, abbiamo parlato di business e di servizi, abbiamo toccato i temi della leadership. Le trasformazioni che il mondo del retail sta vivendo sono state tutte trattate dentro questa nuova edizione del Retail Executive Summit.